Se uscisse con Andrea, come prenderesti questa cosa? Benvenga, mi fa capire di più. Mi aiuterebbe. Che cosa ti aiuterebbe? Mi aiuterebbe a capire lui. E se uscisse con Giovanni? E altrettanto, per capire i miei corteggiatori. Va bene, la ringrazierei. Per vedere le loro reazioni che... Non ti scoccerebbe? Certo che mi scoccerebbe, Maria, ovvio. Però non smetteresti di sceglierli? No. No, finché non sbagliano, chiaramente. Perché Teresa dici così? Maria, raga, lei è quella che poi si è un ragazzo. Non va a diritto, non è sicuro di quello che vuole. Ma a finire, bla 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 bla, questa cosa non regge più. Cosa? Te continui, se lui esce con me, tu continui. Per sentire, ci resti male. Sì, perché voglio capire cosa potrebbe nascere tra di lui. E poi decido dopo. Per capire quanto tempo più o meno si è un ragazzo. E l'amore, inizia, se ti piace fai e poi vedrai. Tu sei proprio finta. Dai, Teresa. Sei proprio finta. Grazie. 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 Grazie.